Will Smith, le mie fonti mi dicono che tu sarai il presentatore dei Kid's Choice Awards 2012. E chi parla? La persona che sa già che sarai un disastro! Se lo dici tu, brutta voce odiosa. Attendi in linea, eh? Ciao Will, qui Riccardo. Lascialo perdere. Sienti. Ah, il reggito forte. Ehm, perché devo reggermi? Eccoci Will. Eh, Riccardo, posso sapere dove mi trovo esattamente? Sei nel quartier generale di Kid's Choice. Se vuoi essere il miglior presentatore di sempre, hai bisogno degli esperti. Ok. Che state facendo voi esperti? Stiamo per inaugurare la catapulta umana! Non mi piace questa cosa! Kid's Choice Awards 2012 presenta Will Smith. Martedì 3 aprile, sono su Nickelodeon. Non mi piace questa cosa! Faccio che ci sono dipastrato e dipastratoizado quello che hai bisogno di fare, non mi piace che era, aggiungo io in download. Quindi pericolo sono con il Pepperito,